Poi, mi immagino già I caricatori Se ogni zombie è un nemico del multiplayer Allora puoi giocarci Perché sicuramente Adesso faranno delle tazzade assurde A voglia sicuro Proprio perché dura poco Allora tre yard Ho appena tornato lì Che deve creare Che è quella merda di tatti Ma che stai fai Non è la tatti Zitti adesso che abbiamo due uomini in meno Per dio Quelle scale bianche Che fai da E' altro botto Oh madonna, ma quanto scale Una camera bambini Un altro scale Ma oddio Siamo a 15 secondi Non mi muovo Deve plantare No, è Ying, è Ying Ero fermo ma mi ha ucciso lei Mi è venuto a cercare Grandissimo da Trovo il 5 Un 2v5 Mamma mia Bella, bella, bella Questa me la salvo Eeeh, sono pallabotola sto stronzo Ok Venga pigliata credo 15 secondi Ok Ok, back lo so usare dai Questa me la salvo pure Ok